10 Provenzano 11 Pegna Carlo Con la tua maglia La maglia è stata una decisione personale di affidare sia la fascia che la maglia a un giovane Provenzano Come vedi la squadra oggi? Eh, se non è iniziata ancora la partita non possiamo dare un'infinita Piccoli palleggi al centrocampo il campo in ottime condizioni La partita sta per prendere il via Dalla partita centrocampo canataro-provenzano la coppia d'attaccia del Rende dovrete si chiedere il coronino inedito 3, 5, 2 All'ordine del signor Pisapia di Tauria Nova Vivacqua Pegna, scambio non con Vivacqua Vivacqua non per Pegna Vivacqua Spinta di Cribari ai danni del numero 4 del Cleto Inedito Non rende Ottimo Pignataro La palla va subito per Provenzano Provenzano parte dal centrocampo va via da solo sta provando ad andare da solo Fischia l'albitro c'è il primo che lo tende a giocare l'incontro del numero 6 del Cleto Pallo ai danni di Provenzano che era partito esattamente come un certo Ronaldo Palleno ribare, palla per Pignataro, Pignataro al centro, la palla viene ribattuta ma è segnale di cuore da un terzino, grande, la palla finisce, Provenzano la palla esce fuori sulla mezza girata di Provenzano rimesso nella fonda, parte la portiera della vecchia Cleto, rinvio, nelle pezze del centrocampo ribattuta da Kribari, imbossa sulla destra il Cleto, messaggio dando l'appoggio, la palla la recupera con il riconosciuto, scambio con Provenzano, il riconosciuto va sulla sinistra, affonda, cerca la parte della punizione, non c'è la punizione, Provenzano va di nuovo via da solo, ecco Provenzano, l'orbito non vede, un calcio di punizione di costonezza, recupera sabato che mette la palla, una palla, un ballo laterale, si distende il Cleto, si distende il Cleto, laterale sulla sinistra, palla manovata a centrocampo, è allargato adesso, l'esterno destro, finta il cross, adesso mette la palla al centro, ribatte Provenzano, lo riconosciuto, non prende la palla, si avvenda un 4 del Cleto, imbossato ma ecco Pegna non riesce, c'è Canna Targo che recupera la palla, l'albito, piccola disattenzione dell'albito, sugli spalti l'aria un pochino nervosa da parte dei tifosi del Rente, Pegna, fallo laterale di Pegna, viene ribattuto da un difensatore del Cleto che marca stretto Cannataro, mister anche del Rente, la squadra del Rente sale, la difesa si porta a 10 metri dal centrocampo, l'impio del Cleto, non è lunga, la palla va in valla laterale, si fa vedere? Gna Targo, apre sulla fascia per riconosciuto, bravo! sistemi di corte, un po' spedendo, ci sono nulla, inそco gli offroni delle tifosi dei Mening 고ени, quindi si riempie nazivano l'ipoli, se gli offroni głowaltine, spesso può essere piccola, bravo! Ho parlato, profilo! Mi sembra arrivare al vig��upo, c'è Llega che è una sorella collegata e ci si mangia leggerà no, come, explain? Povenzano rinvio, vivacqua di testa, Povenzano, Cribare per Cannataro, ma viene anticipato dal difensore. Lungo l'angelo, esce Cribare, e la fa sua. E si accinge il rinvio. Lungo il rinvio, la parte di Cribare. La palla verso Cannataro. Grande palla, in questo Cannataro. Povenzano, Povenzano molto lento nella fase finale. Poteva puntare alla porta, concentrarsi e battere a retta. Non ci riesce, è un pochino a terra fisicamente. Servono gli allenamenti. Calcio d'angolo a favore del grande. Quando siamo giunti al quindicesimo del primo tempo. Davide, Davide, via! Il primo calcio d'angolo, la metto al centro. Aspetta il Pegna. Ma viene l'inviato. Pignataro, ti è riconosciuto. Grande stoppe di riconosciuto. Pegna. Pegna viene fermato. Grave errore di Pegna sulla fascia. Si possessa? Ma Pegna recupera la fascia. Abitro! Bello, bello. Caila, vanno fuori una sedia, lo st Montgomery. Abitro, giallo, si allunga Provenzano, grande battuta, ne presti Provenzano, Provenzano Provenzano, viene fermato Moreno, Moreno Come qui? Ma perché? Ah, così? Come che cosa? Che senti cosa? Mi spegne, è stato imparato, no? Così? Prepeglia, beh, ciao. Sto stancato perché non ero c'era il pleto qua. Non è andato a restare. Ma cosa state, però? Si, non c'è, ma che sta bene! Sì. No, dice, mi è bello. Così. Buonai! Azzurro! E' un sapore! Mi si fattola! Matteo Provenzano, ecco il massaggiatore Jandorno Poggi nei panni di massaggiatore Alza i tacchi Jandorno! Percavolo! Vieni! 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 Adesso io ti fai fatto! Vieni! Colantoneone Frantoneone Cina Dovul Grazie Vieni! Vieni! FamuAS Inizio Vieni! Vieni! L'albicio calvice da noi che l'ha nominato usava il calvice nella parte di prima categoria, l'acqua pesa, di Tauria 9. Come non torna? Parangelo, di Tauria 9. Un rime di Tauria, non torna. Si sa, ha nominato. Puoi piscinare l'alcoloso. Puoi piscinare. Aggredi, Pegna, agredi! Eccolo di merda! Loro tutti scattavano. Arriva la barretrovia, è un nuovo pianeggio. Adesso, faici la torre a Gennaro. Faici la torre a Gennaro. Gennaro! Poi è stato scagliato. Dopo una vetra che si chiama la barella. Mi teniamo un barella. Quer sacola? Cos'è scattava. Qu'è infatti? Sì, vedete i porti che vanno a prendere? Sì, vedete i porti. Quante le dimentiche di pegno da Provenzano sulla palla? Quante le dimentiche di pegno da Provenzano sulla palla? Cianucchiar! E' un po' di scopo! Cianucchiar! Deve all'arrabbiare il cacoletto. E' un po' di spada, scusa. E' un'altra cacoletta. Si, mettono dentro! Ogni occhio! Vai, vai, vai! sta bene il mister canotaro ma la palla non arriva non dell'organo poi ci manca qualità la città la città la città la città la città . . . 3. 5. 4. 4. 5. 10 minuti! 10 minuti! 10 minuti! 10 minuti! Provenza. 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 No, Pino, ci uscite, però non c'è il cane, non c'è il cane, non c'è il cane, non c'è il cane, non c'è il cane. Non c'è il cane, non c'è il cane, non c'è il cane, non c'è il cane. 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 Non c'è il cane, non c'è il cane, non c'è il cane. ...dalla 21 giorni! A meno la mia! Bella! Ma che è Natale? Vai Pirocci! Vai! Buona! Buona! Stavo fatto adesso la difesa! Andiamo Provenziano! Dai! Buona! 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 No? Come ho arrivato! Buona! Mi metto sul liquito della camera Avello! Ora! Maate! Buona! Buona! Ma perché aspetta? Aspetta subito, dai! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! 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 carlo era fuori gioco giuoccio secondo me te lo spiro grazie a tutti Come si è fatta le uova? Ma si è fatta di toccare? Beh, è un'altra cosa Eh, albitro! Albitro! E' scelto! E' scelto! C'è scelto! Ma c'è scelto! Albitro, stai facendo un protagonista! C'è scelto! C'è scelto! Proprio come gli eticani Eccola! 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 Provenzano, questa è la battuta! Mamma, Provenzano! Mamma! No, no, no. Fai il casco polica, eh? Eh, sì, sì. Cacciavolo a tono. Mi muovo il tuo campo. Ammanisci solo per i protesti, riccio! È giusto pure un eco, un massaggiatore, un eco. Un eco. Un eco. Carbone, prendi a disposizione, eh? Mauro! Il treno in seconda è andorno. Spray! Scusi, puoi inquadrare cortesemente a Ciccio Kaira? Già fatto. Fai un'inquadratura. Ed eccolo, è solo e pensieroso. Ciccio Kaira. Fuma. Kaira! Fuma. 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 ma ci sarà sicuramente il golo di canadone al cominciano di testa imbeccabile il colpo di testa santa via Che buono, guarda, pizzerà! Sono bene a pensieri nostri. Vabbè qua. Ma l'avessi un bacio, no? Mi chiamiamo addosso. Non ti faccio nulla, tranquillo! Buono! Capita! Quante salva, grande! Stava mille, non mi chiamava. Non mi chiamava le persi. Che è che si cazza, è un grosso! Bello teatro, dove? Manca l'apparato. Non mi chiamava, ma non forno. Non si può! Non quero fuori! Non mi chiamava le persi, non mi chiamava le persi. Non mi chiamava le persi. Vabbè, vabbè! Mioi, che c'è! Sì, me c'è! Sì, sono bensami! Oio, oio! A me cate un po' Sì, un po' di più. È molto bene. Sì, sì. Sì, sì. Sì, è giusto. Diccio. Diccio. Ma è così? È così. È così. Non è così. Non è così. Ha fatto due anni, ma non mi sento la casa. No, non è così. E me ne hanno parlato. E' la mia casa. Ma ci cuglioni, ma è casato! È giù! Sì, sì! Piscinano! Bravo Massimo! Non è così. È un giù. È un giù. È un giù. È un giù. un anno maligno un anno maligno un anno maligno Il nano è buono, ma che cazzo ne vuoi? Io ne ho 62, io non ho 52, bello vero. Le occhi fuori. Un po' di silenzio partecipamente. Un po' di silenzio. Ma è il primo. Un po' di silenzio? Un po' di silenzio. E' nostra, è nostra. Questa è il sacco. Sto iniziando a soffrire un pochino. 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 Sto iniziando a soffrire. Sto iniziando a soffrire un pochino. Sto iniziando a soffrire. Sto iniziando a soffrire un pochino. 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 Sì, è un bel! L'altro è il caso! L'altro è il caso! Come sta? Non è vero? Non è vero? Sì, sì, sì! È sempre! Chi è? Vai! Bravo, albitro! Devi dare prima la punizione, albitro! Bravo, bravo! 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 Vai, batte! Eh, la madonna! Ballone! Ma io vengo a stare a zero! A stare a zero? No, a guinni! A guinni dove c'è il partito? A guinni dove c'è il partito? A guinni! E non i cobalni, la guinni! C'è il partito? Che c'è il partito? Beh, palla froffì! Che c'è il partito? è che fu questo? È così, che vuoi di un nome? No, no, no! vieni in aria tutti in aria tutti in aria vai salvatore ma non è che ne sono si stanno lontani l'avversario stanno lontano aiuta aiuta uno è brutto erano in più stavano vicino all'avversario grande mario mi ha apprezzato qui c'è il cartone non c'è il cartone non c'è il cartone fino a te ce ne stai più vicino vai vai scusate non si vede se be deve sporgere con la telecamera e ha anche il segno a pregata gianni buon compagno alla regia gianni buon compagno si è inclinato si è già preparato non è indiretto stasera un gioco Maura, passa la palla. Maura, passa la palla. Maura, maura, maura. Marcella, c'è il cammino. Buona. Buona. Buona, buona, buona. Grande pegna. Finalmente avevo fatto un'azione regna di nota. Maura, passa la palla. Passa la palla. Questa è la posizione di Mauro. Questa è la posizione di Mauro. Questa è la posizione di Mauro. Fermatemi, che stai venendo. No, nammi, istambelo. Questa è la popolazione di HudUp. No, questa è la spazio di Someone. Dammi, istambelo, capisco. Abbrò a nose. Questa è una bella posizione. 0 a 0 0 a 0 David, Tracy, Juventus in bandaggio C'era madonna Va, va, va È troppo vicino Grazie Grazie Scara a te E in due Che famo Mi era madonna Mi non ce l'ha rubato Mi non ce l'ha rubato Schema Omo Maltina Chi son? Fui, fui Fui è andata e' andata e' il cugino gira e' il bordo di noi e' non fu e' caso fu e fu e fu buona 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 sarva bravo tig la che non muove non muove bene se c'è questo sa che vede dei morti per i te gravi molto bene ci stai? non fai non metti il ballone non metti il ballone non metti il ballone non metti il ballone non andate via dalla buona buona Mario buona ma è buona l'azione Mario ha questa non è niente albitro non è niente non è niente non è niente pallone a dire urge la cartellina gialla per provanzano ma un po' con l'albitro scusi mi puoi inquadrare un attimo una 50 pantone di euro 100 euro 100 euro anche vince la partita oggi 100 milioni il gruppo come si ci chiede figlio mi devo sporgere ecco il rosario che si sta riscaldando alcuni rosario alcuni campo la partita è proprio un salito è forte i gemelli in campo mamma solo non è che è la bimba è stata di intelligenza raga raga pomplicità pomplicità Siamo qui dal comunale, Marco Robinson, con un grande assente nella partita, il capitano per ciò, le mie prime impressioni accadde in questo primo tempo? Questo primo tempo è andato abbastanza bene, anche se la squadra non è che si è mossa ai massimi livelli, comunque dobbiamo dire che il campionato dovrà portare qualche piccola modifica, perché si è visto poco gioco e pochi di rimbota, comunque speriamo meglio nel secondo tempo. Quindi lei vede un cambiamento nel secondo tempo? Ma credo di sì. Allora, ci dica la mossa tattica. Credo che bisogna aggiungere più qualità al centrocampo, con inserimento per la regione al furi, poi deciderà il mister. Grazie a te la linea, Maffei. Mi ha arrivato un messaggio, leggi. Ma la Befana esiste? Mi ha lavorato un messaggio? E' il mio burger. Ma la Edifana esiste? non è l'amore, non è l'amore, non è l'amore vieni, vieni a dove è l'amore mi puoi capire il cacchio con lo gioco a che? non è la nonna ma rimanda una volta ora vedo che sei compito tu mi viene una po ma corre e qua altri dai, sai che c'è il mio giocatore ma no, sai che c'è il cacchio non è il cacchio subito eh non è l'amore ok, dai molti è l'ambito come se non è così la mia la mia la mia la mia la 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 e due punte di rosario ecco ma le cose belle e ripiglialo bello bello Mertu portamelo vieni ringraziamelo anche se non posso io Mertu sei un grande Mertu mi servono corvo a domicili non si vede 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 eh Pegna ci prova Pegna eh dopo le notti brave ecco puoi inquadrare cortesemente in tribuna un piccolo scoop dopo le notti brave accendo e in wow grazie anche grazie non è l'isola felice non è l'isola felice ma lo petto che ho fatto? non è l'isola felice ma ci non c'è ci spero è stato sciupato non è l'isola felice non è l'isola felice bravo Salvatore bravissimo bravo Rosario a Mauro a Mauro a Mauro aack a eack a, a eack a, a aack c'è più qualità con il mister a centrocampo dobbiamo dire la verità ecco l'approccio alla modifica al centrocampo con l'arretramento del misto e l'avanzamento di gli arcuri come potete vedersi voi in due anni dipendono fatto le patate di percillo a fine primo tempo scusa stiamo andando con un gompetente non è che puoi fare sempre un gomgiano si è la tua si è la tua Che n'è qui? Che n'è qui? Che n'è qui? Che cadiz? Che n'è qui? No, no! Che n'è qui? Anzi, Giuppi, anzi, Giuppi. Vai, Giuppi. Vai, Giuppi. Giuppi, scantatevi, vai. A BG. La valorità parziale si teme bisogno di urgentemente dalla cera. Vai. Grazie. Grazie a tutti. Vecchi, eh. Gino, come sui tu puro? Bravo, eh. E' buono, mica il secondo. Grazie. Grazie. Come si vedeci da quando? Chi no lo sa? Chi no lo sa? Chi no lo sa? Chi no lo sa? Ma no, a mano. Ma no, ma no. Ma no, ma no. Ma no, ma no. Grande pegna. Eh, entri tu! 36, no lo sa? C'è i mamma? Fai a pensare! Gino! Sì, sì, ma no. Basta! Ma... Bollino! Vieni, vieni. Vieni, vieni. ecco ma l'ho non è una bella bolla di senso vedici credici non è una bella bolla Sì, non è vero. Non possiamo soffrire, signor Chene, non possiamo soffrire. Marcella, c'è l'incontro, Marcella. Guarda che nasce fuori, guarda fuori. Guarda fuori, guarda fuori. Guarda fuori. Guarda fuori. Ma puoi, guarda fuori? Sì, non mi toccato. Ma fa la linguaggio subito, Marcella. Sì, subito. Non ci senti bene. Ah, io era Matoska, Gilda. Gilda! In arrivo, come? In arrivo, la moglie di Tonello Firenze. In arrivo, la moglie di Tonello Firenze. In arrivo, la moglie di Tonello Firenze. In arrivo, questa è l'avevo. Chwe sceglia alle le cose. Come? Don recessionare, l'adriano, l'uomo. Ih, lo soffастьi, questo uomo. Lo soffrire. Oh, no, io rvisioni stessa promocPApo. Sì, Senhor! Un lato leave, lì. E' una garbante, un po' di bambini. E' un po' di bambini. E' un po' di bambini. A me la vediamo. E' un po' di bambini. E' un po' di bambini. Ammoliscelo! Voglio, ma segniamo, non segniamo, non collo e ne basta. La palla croccia la palla. Ciò che i piedi la palla crepare. In campo ci sono tre coppie di fratelli. Abbiamo meglio capire il capo d'anno. Abbiamo meglio capire il capo d'anno. All'usario! Eh no! 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 No... No! Molto! Voi credo! Voi catturati! Mia! Voi! 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 Voi scattare! Voi! 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 Alla caratteristica! Il presto è fatto! Hai un basso dalla destra! Cosa chiede? Guarda! No! Parabellato! Avvive! Mamma mia Non mi mettono te io. Attenzione, ecco che arrivano. Gilda! Gilda! Ciao Marco! Che da? Merry? Merry Christmas! And David, you're here. And David, you're here. I'm not going to go there. Oh Mario! Come here! Come here! Come here! Come here! Come here! Come here! Mario! Lombardo! Come here! Come here! Come, come here! Come here! Come here! raga potete entrare buon arbitro ma mia la giambata e il mio ringio io non ho fatto quando andi? quando andi? buona 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 e che è? si fa male si fa male ha male con una mano Mamma mamma! E morì a noi. Tra poco muro? Che secondo te non è stato mai inventato. Non vado a far passaggiare. Fai un gioco così. E tre prendi l'arcovo. Bravo. E' due! E' due! E' due! Calma, allargati in brema. Se non dà cosa... Ehi, venga va! Venga, venga! Venga, venga! Venga, venga! Venga, venga! Venga, venga! Venga. Venga, venga. Venga, venga, venga! Venga, no putziesca, venga! La vedo! Vale! Venga ska! Inguropa! Grazie a tutti. 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 a tutti.